Ha deciso di donare il compenso di oggi 50.000 euro all'associazione Ampas di Ostia Certo di cuore Bello Partimi sentire Il consiglio di amministrazione di Ostia È gestito completamente dai genitori volontari Quindi spaviamo questa cosa che noi guadagniamo tutti Ruberei a mio figlio Perché sono la mamma che un ragazzo ce l'ho reso grave Ruberei a mio figlio si approfittarsi anche di un solo pezzo di padre Tutto è per loro Per sempre Sono 56 anni che sono mamma Ragazzi è questa l'inclusione Non quella che ti raccontano Le barriere Questa è la società Siete voi che fate l'inclusione E non gli amico Anche Questo dono piovuto da cielo Che realmente fa la differenza Ci aiuterà a raddoppiare il parco inclusivo Che forse molti di voi avete visto Abbiamo delle giostre finalmente adatte anche al bimbo in carrozzina Un piccolo campo da golf Un'area in cui molti di voi stanno entrando per conoscerci La raddoppieremo alle nostre spalle Anche grazie al grande contributo di tutti Anche delle istituzioni E la preghiera è venite a trovarci perché le nostre porte sono aperte E questo è davvero per la differenza Ringraziamo con tutto il cuore il Jax e l'Algida Perché cegniamo un grande punto a favore di questo territorio Ringraziamo un grande punto a favore di questo